...le Nazioni Unite e della Nato, riferimenti della nostra politica estera e di sicurezza. A seguire la partiera della missione ISAP e della missione K-4, rispettivamente le forze della Nato, che ovvero di Naccaestanti e Pasoschi, la Italia si colloca tra quei paesi che assicurano i contributi più consistenti in termini di partecipazione alle missioni internazionali. Seguono la bandiera e le insegne delle 16 missioni internazionali dell'Unione Europea, espressione tangibile della politica di sicurezza e difesa comune dei 28 stati membri. L'Italia partecipa attivamente alle missioni, sia civili che militari, a fine europea, con l'obiettivo di contribuire al mantenimento della pace e alla sicurezza internazionale, allo finito e consolidamento delle capacità autonome delle istituzioni locali e che contribuiscono effettivamente ed efficacemente ad accrescere il concetto di difesa europea. È ora la volta di alcuni vestiti rappresentativi di comandi e forze multinazionali in cui il nostro paese è attivamente impegnato in Italia e all'estero. Il contributo nazionale all'interno di questi organismi concorre nel portare aiuti, pace e ricostruzione da dove la comunità internazionale ne avverte il bisogno. Inizia ora la rievocazione storica, che si apre con la banda della brigata Sassari, formata da circa 30 militari, cui si salva un drappello di tamburi imperiali con manziere. Il complesso musicale e i militari della compagnia che segue cantano l'inno di Monios, che richiama le gesta dei soldati della Sassari nella Prima Guerra Mondiale e si conclude con il motto Forza Paris, tutti insieme e sardo. Forza Paris!